Giunta Marsilio verso la fumata bianca. Dopo oltre tre ore di discussione è rientrata la protesta di Forza Italia, secondo partito della coalizione, che ottiene una postazione in più passando a tre. Rimane sulla ventino la Lega, terza forza della coalizione, che non guadagna posti rimanendo a uno. Secondo quanto si è preso, domani Marsilio presenterà il nuovo esecutivo nel primo consiglio regionale della dodicesima legislatura in seguito alla storica riconferma del centrodestra alle elezioni del 10 marzo scorso. Gli otto posti saranno così distribuiti. Tre assessorie a Fratelli d'Italia, nettamente prima forza della coalizione. Uno a Forza Italia, che prende anche il presidente del Consiglio e il sottosegretario alla presidenza della Giunta. Uno alla Lega e uno alla lista del presidente. A noi moderati potrebbe andare la vicepresidenza del Consiglio. Si sentiranno telefonicamente Marsilio e Luigi Deramo, coordinatore regionale del carroccio, sottosegretario all'agricoltura, assente dal tavolo perché impegnato nel G7 dei ministri dell'agricoltura a Bruxelles. Domani all'Aquila sarà dunque inaugurata la dodicesima legislatura della regione Abruzzo. La seduta di insediamento del Consiglio regionale è fissata alle 11 a palazzo dell'emiciclo. L'assemblea sarà presieduta da Luciano Marinucci, ex sindaco di San Giovanni Tiatino e consigliere anziano eletto nella lista civica di Marsilio. Nel corso dei lavori saranno eletti l'ufficio di presidenza e di conseguenza il nuovo presidente del Consiglio, i due vicepresidenti espressi dalla maggioranza e dall'opposizione e due consiglieri segretari. La seduta si chiuderà con la presentazione ufficiale dei componenti della giunta. Così il presidente della regione al microfono di Enrico Giancarli. A Pescara, di ritorno dall'Aquila, al giro d'Abruzzo, novità sulla giunta? Le diremo domani, come è giusto che sia, domani c'è l'apertura di questa nuova legislatura, la prima volta che il presidente uscente ha l'onore e il privilegio, oltre che l'onore, di aprire la legislatura illustrando il proprio mandato di governo. Un po' di pazienza e domani scioglieremo le risultate. Grazie. 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 Grazie.